Catalogo Primavera Estate 2024, Conforama Italia, vivi al massimo la tua estate con il nuovo arredamento outdoor. Il nuovo catalogo Conforama Italia Primavera Estate 2024 offre soluzioni per arredare il giardino e gli spazi all'aperto, con stile e comfort. Poltrone sospese, set completi e mobili di design sono solo alcune delle novità per vivere al meglio la stagione all'aria aperta. Tra le proposte, la poltrona sospesa Thomas e il set Tropea spiccano per il mix di comodità e cura nei dettagli. Le soluzioni Conforama, come la sedia Nora e il Settemma, garantiscono eleganza e funzionalità per ogni spazio esterno. Grazie per la visione!